Buu! Spero che questo video mi possa piacere E' un regalo per voi quindi Vi lascio subito alle urla di Violetta Perchè è lei che si spaventa di più Ma che cazzo Tutto a posto Parte palle a posto Porca miseria Stai calmo Oh 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 di nuovo Pure te Vuole fregacciare la telecamera veramente Stupido c'è crisi ho capito che c'è crisi ma è mia quella Non pagare la crisi Mamma mia sti ladri schifosi guarda Ma che cazzo Ma voi siete stronzi eh Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ero una donna Allora Ero una donna Ero una donna Ero quasi Stupido Ero una donna Ve... Ero una donna Mia, aELLa Ma sei cosa..... terza Aaaaaaaaaaaaaaaa Sempre pronto Aaaaaaaaaaah Oddio mortasci tu al rotellino de merda Oddio mortasci tu al rotellino de merda Mamma mia Asce- Avvicinati, eccola Oddio ma che è Presa finalmente Ora dobbiamo risalire di nuovo Ma è rotta No vabbè un po' spaccata Oh mamma mia Oh mamma mia Oddio no No la telecom Ve la vendo se volete Cosa 5 euro 5 euro Cazzo Oddio mio Cazzo Sto gioco proprio non è per i deboli di cuore Oddio vaffanculo Te l'ha vista il cazzo La porta non si apre Vogliamo salvarti Sta facendo la puputa a qualche parte E' stato al buio E piange Poverà Oh 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 Ma che cazzo era E' il bambino che ha chiuso la porta Chi è che chi è che ti fa interferenze TABBALERETTO STROZZO No Dov'è Nooo Scappa Scappa Dov'è L'ho visto L'ho visto Il vostro caro Presidente Nooo No 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 Ha 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 Se è mio à 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 Perché non posso andare avanti, posso solo andare indietro Si sa perché No! Via! No! Via! No! Via! Via! Magari sono tutti i predi, andiamo in libreria? Eh, quanto pare Oddio! Oddio! Chi è? Chi sarà? Oddio! Chi è? Guarda chi è! Ah! Ma che cazzo era? Ah! Ma va tu a culo, guarda tu i tuoi giochi del cazzo Bene! Non ti va a far paura, eh, ammazza, ti ho cagato sotto l'altro po' Io lo sapevo, eh Fai lo stronzo che sei Fai da solo i giochi horror Eh ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Spolliciate perché a 65.000 mi piace Prossimo gioco horror insieme a Violetta Scrivetemi qua sotto in un commento quale spavento vi è piaciuto di più E soprattutto scrivete chi si è spaventato di più tra me e Violetta Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Facebook e Instagram Vi trovate in descrizione Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video Vi mando un abbraccione Un salutone E ci ricciau gente Buono Distributore di chiappe Questo è un distributore di chiappe Prego inserire la sua monetina Cioè ste cose